La Regione ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro a regime destinati alla riclassificazione del personale, un finanziamento che è il risultato di un emendamento alla legge regionale 17 per volere dell'assessora regionale agli affari generali e personale Valeria Satta. Il finanziamento servirà alla riclassificazione del personale dell'amministrazione centrale e delle agenzie che non hanno bilancio autonomo. Secondo l'assessora Satta si tratta di un passaggio atteso dai dipendenti da oltre 20 anni, in quanto l'ultimo risale al 2001, anno in cui si effettuò un cambiamento delle categorie, uno strumento fondamentale ai fini dell'efficienza della Regione, puntualizza Satta, che adesso, grazie a questo nuovo stanziamento, permetterà di ottimizzare le funzioni dell'amministrazione e delle varie categorie mediante metodologie di lavoro più moderne e allo stesso tempo sarà un'importante occasione in cui verranno riconosciute le professionalità e l'anzianità dei lavoratori. Prossimo passaggio l'incontro giovedì 4 agosto in videoconferenza con le sigle sindacali in cui si cercherà di stilare una bozza di delibera di indirizzi da portare in giunta.